La Guardia di Finanza di Vittoria ha sequestrato due depositi abusivi contenenti 30.000 litri di gasolio agricolo di contrabbando, oltre a un autocarro e una motopala. Due i denunciati, tra cui il rappresentante legale di una società. In uno dei due depositi era stato costruito un impianto clandestino di smistamento del gasolio al fine di eludere controlli. Loro liquido era stato accumulato nei depositi per cento volte di più di prodotto in quanto autorizzato dall'assegnazione annuale con accise agevolate, proprio per le aziende agricole. Dopo diversi giorni di osservazione e pedinamenti, i finanzieri si sono insospettiti del fatto che gli stessi non si rifornivano presso i distributori stradali di carburante. L'autocarro, la motopala e tutto il carburante agricolo sono stati sottoposti a sequestro e i due responsabili denunciati all'autorità giudiziaria.